Musica Struttura commissariale contro Giamelli, stamane Consiglio regionale Rovente, la maggior parte dei consiglieri contrari ai tagli. In Molise tutti e tre i centri per l'impiego chiusi al pubblico, ma anche il personale non garantiti servizi di vigilanza e pulizia. Droga sequestrata in una minicara all'esterno di un locale dove si stava festeggiando un compleanno di 18 anni, identificati tre giovanissimi. Carenze igieniche, locali non idonei, maxi operazione dei carabinieri del NAS in tutta Italia, in Molise due medici e un pediatra sotto osservazione. Toto sindaco a Venafra, ancora tanti nomi in campo, ardo comporre le liste dei candidati consiglieri, a stretto giro la necessaria sintesi. Salve, ben trovati a questa edizione del TG di TV in Molise. Cominciamo parlando di carenze igieniche e locali non idonei, perché oggi c'è stata una maxi operazione dei carabinieri del NAS in tutta Italia, in studi di medici e pediatri, rilevate 308 tra irregolarità penali ed amministrative. In Molise sono stati 21 i controlli, rilevando in tre situazioni delle non conformità per carenze organizzative strutturali, in studi medici convenzionati. Per due medici e un pediatra sono in corso accertamenti per verificare l'attività. Chiamato in causa anche il Vaticano, ormai è scontro totale tra il gemelli SPA e la gestione commissariale della sanità molisana, in altre parole Toma e Papa. Questi ultimi nel corso di una conferenza stampa blindata hanno confermato la loro intenzione di pagare una sola profilatura per ogni malato di tumore di radioterapia. Intanto parlano di un debito di 18 milioni a carico della precedente gestione della cattolica e per questo il gemelli ha già chiesto l'intervento del Vaticano. Ci racconta tutto il direttore Enzo Di Gaetano. Oramai nella guerra tra gestione commissariale della sanità e la fondazione gemelli stanno scendendo in campo ai pesi massimi. Infatti di fronte alle affermazioni rilasciate da Toma e Papa in conferenza stampa, i vertici dell'Istituto di Contrada Tappino hanno deciso di chiedere l'intervento del Vaticano, meglio dell'Università Cattolica di Roma, diretta emanazione della Santa Sede. Il motivo deriva da quanto dichiarato dai due commissari conferenza stampa a Campobasso. La coppia infatti ha ribadito l'intenzione di pagare solo una profilatura per ogni paziente che si sottopone a radioterapia presso il gemelli. Qualunque sia il numero di sedute radioterapiche, l'ASREM riconoscerà al gemelli solo una profilatura, una quarantina di euro circa, in base al tariffario nazionale. Il gemelli fino a ieri ne fatturava una ogni seduta e continua ad asserire di essersi comportato correttamente, così come si fa in diverse regioni, come Lazio, Abruzzo e tante altre. Ma c'è di più. Forte di questo parere, il commissario Toma ha mostrato l'elenco delle profilature pagate alla Cattolica di Campobasso dal 2015 al 2021. Secondo lui pagamenti non dovuti per più di 18 milioni di euro, soldi che chiaramente verranno chiesti indietro alla Cattolica e non all'attuale gestione del gemelli, arrivata solo da un anno in Molise. Di fronte a queste notizie, l'avvocato Fabio Verile, legale di Petracca, ha detto che ha informato di tutta la vicenda direttamente l'Università Cattolica di Roma, diretta emanazione del Vaticano, che vendette a Petracca la struttura. Insomma, alla fine la guerra della sanità apre un nuovo fronte, questa volta in Piazza San Pietro, perché i soldi, qualora fossero dovuti, dovranno essere sborsati dalle casse della Santa Sede. Sembra quasi una maledizione per i Molise. Prima il caso del broker termolese Gianluizzi Torzi e la vendita milionaria del Palazzo di Londra. Oggi i commissari della sanità molisana, che battono cassa al Vaticano, non va proprio bene per i poveri molisani, perché tutto lascia pensare che Petracca mandenga la parola e da fine mese il Gemelli non accetterà più malati di tumore da curare in radioterapia. Toma, di fronte a questa ipotesi, parla della possibile apertura di un reparto e di un DEA di secondo livello al Cardarelli. Beh, noi valutiamo i costi di tutto ciò che si potrebbe fare di meglio e di più. Addirittura stiamo valutando i costi di un eventuale policlinico universitario. Stiamo valutando i costi di un DEA di secondo livello. La verità è che appare difficilmente credibile la realizzazione di qualcosa del genere, visto che in tre anni l'ASREM non è stata capace di aprire neanche la torre Covid. Ora pensare di trasformare il Cardarelli in policlinico e far partire una nuova radioterapia lì, trovando gli specialisti necessari, sattando di sogni ad occhi aperti. In conclusione una butade, parole al vento, oltretutto pronunciate da un presidente commissario a scadenza ravvicinata. Un commissario che oltretutto, colpo di scena degli ultimi minuti, è stato convocato alle 15 di martedì dal Ministero della Salute per un faccia a faccia con il ministro Schillaci, che presumibilmente non sarà tenero. Intanto questa mattina appuntamento a Campobasso per un consiglio regionale dai toni durissimi nei confronti della struttura commissariale alla sanità che sta mettendo in difficoltà la permanenza in Molise della Fondazione Gemelli. Un consiglio monotematico che però ha registrato l'assenza di Toma, che è stato convocato a Roma dal ministro Schillaci. Vediamo. Un consiglio regionale convocato quasi all'unanimità per difendere i gemelli e condannare le scelte di Donato Toma si è svolto senza il principale interlocutore, il commissario governatore, convocato su due piedi a Roma dal ministro alla Salute Schillaci. Un ministro a cui sicuramente hanno provocato qualche noia le rimostranze di una fondazione gemelli messa alle strette dalle nuove regole sui rimborsi delle radioterapie dettate da Donato Toma e Giacomo Papa. Nuove regole che provocheranno la chiusura del reparto con i malati di tumore molisani costretti ad emigrare. Una scelta condannata dall'opinione pubblica e anche da quasi tutti i consiglieri regionali, di maggioranza e minoranza. Insomma, la guerra scatenata da Toma contro i gemelli viene vista come una scelta azzardata e penalizzante per l'intera regione. Chiudere radioterapia equivale a far emigrare i poveri malati oncologici molisani, una scelta condannata da maggioranza e minoranza. Ci oppurremo sicuramente con decisione a tutte le attività che il presidente Toma sta assumendo in questo periodo nei confronti della cattolica ed in particolare della radioterapia. Non possiamo accettare supinamente che si distrugga qualcosa che è stato costruito negli anni, che serve ai molisani e non solo, serve a una vasta area del centro-sud Italia e che Toma sta distruggendo per ragioni incomprensibili. Ha torto su tutti i punti di vista, persino sulle questioni che lui riferisce in maniera distorta sui giudizi dati dai tecnici ministeriali, dalle varie agenzie che ogni tanto cita, perché a leggere bene quei risultati e quei verbali si capisce il contrario di quello che lui sta facendo. Quindi ci troviamo veramente in una situazione di estrema difficoltà. Le regole per il funzionamento della radioterapia devono essere in qualche modo concertate con chi quel servizio oggi lo eroga in regione. Poi noi siamo stati primi a dire che chiaramente bisognerebbe puntare su delle strutture pubbliche che erogano determinati servizi, però bisogna comprendere che per una cosa del genere sarebbe necessario magari dieci anni, cioè costruire da ora per i prossimi dieci anni. Quindi non è proprio semplice, nel mentre i cittadini non possono subire la contrapposizione tra le due strutture, ovvero il privato convenzionato e la struttura commissariale. Questo credo che sia il più grande male che si possa fare al Molise in questo momento, però sinceramente da Donato Toma io non mi aspetto proprio nulla di buono. E per quel che riguarda la possibilità di realizzare in tempi brevi un reparto di radioterapia al Caddarelli, il giudizio è scontato, visti i precedenti. Toma che doveva fare la torre Covid in dieci giorni, ancora la stiamo aspettando e siamo l'unica regione che non abbiamo la torre Covid. Purtroppo parlano i precedenti e quindi io non ho nessuna fiducia verso questo commissario presidente della sanità e fatemelo dire anche verso questo governo regionale di centro-destra perché al di là delle posizioni singole io credo che il Molise debba buttare pagina nelle competenze e anche in qualche modo nell'impatia. Oggi in questo percorso che riguarda la sanità ho visto mancare molto l'approccio empatico verso i malati, verso le strutture, verso i medici e gli infermieri e gli operatori in generale operati. Torniamo a parlare di trasporto pubblico locale perché sono arrivate ulteriori precisazioni dal segretario della Faisa Cisa alla Molise, Emilio Sant'Angelo, in merito alle affermazioni, le precedenti affermazioni su Sati. Prendiamo atto delle precisazioni della Sati e chiediamo conferma che non c'è mai stata necessità di ricorrere all'azione giudiziaria per il recupero della retribuzione, ma non abbiamo nemmeno mai affermato. L'evasivo e approssimativo tentativo di smentita dell'azienda, comunque spiega il segretario, non modifica il fatto che la regione, crediamo unica in Italia, compensa mensilmente le imprese di trasporto per cui ci riesce difficile comprendere come si possa affermare di aver versato regolarmente e mensilmente ogni altro emollumento. Ci preme sottolineare, conclude Sant'Angelo, che sono ben altre le questioni da affrontare con la Sati. Un vero e proprio droga party, quello che è stato scoperto dai carabinieri di Boiano in questo fine settimana. Sostanze stupefacenti sequestrate e tre giovanissime individuati dai militari dell'arma. Dettagli nel prossimo servizio. Al classico taglio della torta hanno preferito festeggiare il compleanno tagliando e consumando droga. Una festa da sballo, è il caso di dirlo, quella che si è tenuta a questo fine settimana a Boiano, dove i carabinieri sono intervenuti mentre si stava svolgendo un party per festeggiare il diciottesimo di un giovane del posto. Ma il vero divertimento per i ragazzi, a quanto pare, si trovava fuori dal locale, in una stradina laterale, dove era parcheggiata una minicar. All'interno tre giovanissimi, molti di più quelli che avevano circondato il mezzo. Alla vista dei lampeggianti della pattuglia, il classico fuggi-fuggi generale, alcuni sono rientrati all'interno del locale, altri invece si sono allontanati rapidamente a piedi. L'odore proveniente dalla minicar però non ha lasciato spazi a dubbi. In un vano erano nascosti 60 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltellino e il classico trita marihuana. Una volta identificati tre giovanissimi, in accordo con i genitori, i carabinieri hanno perquisito le loro abitazioni, all'interno delle quali però non è stata rinvenuta altra droga. La sostanza stupefacente in possesso dei ragazzi, insomma, era tutta destinata al party. E continua la dinamica positiva della domanda di lavoro prevista dalle imprese. Il 46,2% delle figure professionali resta di difficile reperimento. In Molise sono circa 1.390 le assunzioni totali previste dalle imprese dell'industria e dei servizi nel mese di febbraio e 3.900 quelle del trimestre febbraio-aprile. Rispetto a febbraio 2022 si osserva un aumento delle entrate previste di circa 140 unità con un più 11,2% e più 200 con riferimento all'intero trimestre con un più 5,4%. Anche nel confronto con il periodo pre-covid viene confermata la dinamica positiva della domanda di lavoro regionale. Totosindaco a Venafro ha ancora tanti nomi in campo. Arduo però comporre le liste dei candidati consiglieri. A stretto giro la necessaria sintesi. Domenica 28 maggio. Dovrebbe essere questa la data in cui Venafro andrà alle elezioni. L'indiscrezione arriva da Campobasso a margine della firma da parte di Toma del decreto che fissa le regionali al 25 e 26 di giugno. Sfumata l'ipotesi di accorpare due appuntamenti elettorali e tenuto conto della finestra 15 maggio-15 giugno del Ministero dell'Interno quella di fine maggio la scadenza più probabile. È il primo punto quasi fermo di una tornata che si preannuncia ricca di colpi di scena. A cominciare dai nomi in campo sono ancora tanti. Iniziamo dalla lista espressione dell'amministrazione uscente. La clamorosa notizia che potrebbe capovere lo scenario della ricandidatura di Alfredo Ricci, la corsa del sindaco alle regionali. In queste ore si starebbe ragionando su una lista di sindaci per Palazzo Daimmo. Chi più di loro espressione dei territori e delle loro esigenze da perorare lì dove si decidono le sorti della regione. Un'esigenza espressa ai nostri microfoni in tempi non sospetti dallo stesso Ricci. In quel caso per l'amministrazione uscente il candidato più accreditato potrebbe essere Marco Valvona. Il vice sindaco e assessore al bilancio e ai lavori pubblici rivendicherebbe l'investitura anche in forza del risultato del 2018. Tornata che lo aveva visto primo eletto sul fronte dei competitor. Stanno vagliando la possibile discesa in campo, che poi in concreto significa comporre una lista di candidati consiglieri elettoralmente pesanti, Massimiliano di Vito ed Enzo Bianchi. Dell'altro giorno la conferma, sempre ai nostri microfoni, da parte del primario. Per entrambi, l'imprenditore e il medico, peraltro ex sindaco, sarà decisivo il sostegno di un fronte politico il più ampio possibile. Non da ultimo il nome di Luigi Viscione. La sua lista sarebbe quasi pronta. L'architetto e presidente della Proloco, vicino al laboratorio 86079. In realtà, dal neocostituito movimento, ancora non è arrivata una indicazione sul nome. L'ala progressista del movimento potrebbe puntare sul responsabile locale del circolo PD, Giuseppe Notte. Quel che è certo, per forza di cose, il fatto che presto si dovrà arrivare ad una sintesi tra le diverse forze in campo. La lista dei nomi che vi abbiamo fatto è lunga e forse nemmeno esaustiva. A proposito di liste, dove sono i candidati consigliere che vi aderiranno? Proprio per questo, alla fine, gli schieramenti in campo potrebbero essere solo due. La Guardia di Finanza di Campobasso ha donato alle strutture caritatevoli diocesane cittadine oltre 1200 kg di generi alimentari. Si tratta più in particolare di generi alimentari sequestrati nell'ambito delle ordinarie attività di controllo economico del territorio, prodotti assolutamente genuini sul piano della qualità, pur tuttavia posti in vendita senza le previste autorizzazioni amministrative e soprattutto fiscali. È paradossale quanto sta accadendo in Molise con tutti e tre i centri per l'impiego, quelli di Campobasso, Termoli e Isernia, chiusi al pubblico perché manca il personale e perché sono scaduti i contratti alle ditte che garantivano i servizi di vigilanza e pulizia. Intanto i cittadini parlano di un disservizio vergognoso. Per lavorare in Molise bisogna fare i salti mortali, persino superare l'ostacolo non da poco di centri per l'impiego chiusi in tutta la regione. Da diversi giorni infatti tutti e tre gli uffici del lavoro, quelli di Campobasso, Termoli e Isernia, sono chiusi al pubblico. Manca il personale, mancano gli addetti alla pulizia e alla sicurezza e addirittura a Termoli manca la sede perché quella nuova ancora non è pronta. Insomma, se si è in cerca di lavoro o si è disoccupati, non resta che contattare tramite mail i dipendenti con la speranza di ricevere risposta, senza contare le difficoltà per le categorie più deboli che casomai non hanno nemmeno la possibilità di potersi collegare a internet per inviare un messaggio di posta elettronica. Un paradosso per la giunta regionale targata Donato Toma che nei mesi scorsi, dopo anni di immobilismo, aveva annunciato ai 420 un potenziamento del servizio con l'assunzione di 78 nuove figure professionali. Ma in realtà l'unica cosa che è cambiata rispetto a qualche mese fa è che oggi gli uffici del lavoro sono addirittura chiusi al pubblico. Ci troviamo davanti all'ufficio del lavoro di Isernia, qui nel palazzo della provincia. Proviamo ad entrare e come vedete è chiuso. Si legge anche dal cartello che per motivi tecnici organizzativi l'ufficio resterà chiuso fino a data da destinarsi e per poter usufruire dei servizi bisogna solo ed esclusivamente contattare gli addetti tramite email. Un disservizio che diversi cittadini non hanno esitato a definire vergognoso. Piovono critiche anche dai sindacati con la Wiltux che ha parlato di una sonora sconfitta da parte di una politica regionale sempre più distante dalla realtà del mondo del lavoro e dai suoi cittadini. Vuole vederci chiaro anche la consigliera regionale Aida Romagnolo che ha chiesto all'Aggiunta Toma di risolvere immediatamente il problema. Non si è fatta attendere infine la precisazione di Filomena Calenda, assessore al lavoro, che ha annunciato di aver prorogato fino al prossimo 31 marzo il contratto alla società che gestisce la sicurezza. Contratto che però è scaduto lo scorso 17 febbraio. E allora la domanda sorge spontanea. Perché attendere la scadenza per rinnovare un servizio indispensabile per evitare la chiusura degli sportelli? Dilemmi di una classe politica regionale che promette la creazione di nuovi posti di lavoro ma intanto non è in grado nemmeno di tenere aperto un ufficio. Insomma in Molise non solo è difficile trovare lavoro ma anche i servizi per i lavoratori, per i tanti disoccupati e per gli inoccupati funzionano a singhiozzo. Davvero una situazione molto difficile per i lavoratori molisani. Questa mattina il Presidente Fabio Rea in rappresentanza del Comitato di Sernia della Croce Rossa italiana ha consegnato 400 tamponi antigenici Covid-19 al reparto di pronto soccorso dell'ospedale veneziale di Sernia. I test sono stati donati al fine di dare un piccolo sostegno all'operato di medici e personale sanitario quotidianamente impegnati nel rispondere in maniera rapida e idonea alle numerose emergenze e urgenze. Al di là del contributo materiale questa donazione ha spiegato in merito il Presidente Rea assume anche un significato simbolico. A tre anni esatti dall'inizio della pandemia da Covid-19 è importante non abbassare la guardia soprattutto negli ambienti ospedalieri. Ora ci occupiamo di giustizia amministrativa. Dopo l'aumento del 2021 in regione scendono i contenziosi al Tarma. Il Molise detiene ancora il record nazionale di maggior numero di ricorsi in campo sanitario. Cerimonia di apertura del nuovo anno giudiziario del Tribunale amministrativo nell'aula magna del convitto nazionale Mario Pagano di Campobasso. Resi noti dal Presidente Nicola Gaviano i numeri dei ricorsi totali proposti nel 2022. Sono stati 367. Nel 2022, mentre il contenzioso nazionale di primo grado è salito, il Molise incontro tendenza. Dopo il rimbalzo positivo del 2021 a 413 ricorsi, il contenzioso è tornato a ripiegare su un valore più basso di 367 affari. Negli ultimi quattro anni per tre volte il numero di ricorsi si è assestato sotto la linea dei 400 lontani dal 2017, anno in cui i ricorsi furono 527. Quindi un Molise diverso rispetto al territorio nazionale. I numeri di nuovi ricorsi dell'anno 2022 si sono attestati su un livello leggermente inferiore rispetto all'anno scorso e sono comunque numeri che riflettono un contenzioso che almeno per alcuni settori è impegnativo, il Tribunale fa comunque la sua parte. Ancora una volta il settore a far registrare il numero più alto di ricorsi è quello sanitario. Già nel 2021 il dato era emerso per distacco dalle altre materie. Quest'anno si è ulteriormente accresciuto. Sono 87 i ricorsi presentati nel 2022. Nel 2021 c'era già stato un aumento del 150% sull'anno precedente. Nel 2022 la sua consistenza è ancora aumentata e ora corrisponde a circa il 25% dei ricorsi annuali. Immaginate il dato nazionale concernente lo stesso settore è appena del 4,6%. Questo è frutto di una società e di un mercato che si trovano da tempo sottoposti ai rigori di un regime commissariale. Il settore della sanità ha una posizione di vertice quanto al numero di contenziosi e questa singolarità è andata accentuandosi anche ulteriormente nel 2022. Allo Stato è il settore di gran lunga quindi più pieno di cause. A livello nazionale i numeri sono molto inferiori. Parliamo di un rapporto di 1 a 5 tra il numero di... tra la percentuale percentuale del contenzioso nazionale in materia di sanità e quella invece del contenzioso regionale in materia di sanità. Cybercrime e competenze digitali. La risposta di Unimol è la formazione specifica e internazionale. Gli attacchi hacker sono in repentino aumento, sempre più globali e continuano a mancare figure specializzate chiamate a prevenirli. Ecco le opportunità con la laurea magistrale e double degree in sicurezza dei sistemi software dell'Università degli Studi del Molise. Un percorso di studio consolidato e internazionale tra i primi ad essere attivato in Italia. Migliorare l'agricoltura del territorio e il benessere della collettività. A detta del Presidente Raffaele Cotugno le motivazioni alla base dell'idea progettuale dell'ampliamento del Consorzio di Bonifica di Venafro. Un progetto che mira a produrre vantaggi per l'agricoltura e a migliorare il benessere della collettività. Sono le basi, spiega Raffaele Cotugno, su cui si fonda quella che in realtà al momento è poco più di un'idea. Stiamo parlando del protocollo d'intesa per l'ampliamento del comprensorio irriguo del Consorzio della Piana di Venafro. In sostanza si pensa di estendere il sistema di irrigazione ai territori limitrofi alla Piana sul versante dell'Alto Casertano. A separare le due aree, come rimarca lo stesso Presidente del Consorzio, morfologicamente omogenee, il corso del fiume Volturno. Il collegamento delle condotte di irrigazione al contempo viario dovrebbe avvenire a mezzo di un ponte e qui la questione diventa spinosa da registrare l'allevata di scudi degli ambientalisti. Temono la compromissione del già delicato ecosistema dell'area. Altra questione è quella delle risorse in fase di progettazione da impiegare per l'ampliamento. Non devono essere a carico dei consorziati, tuonano i consiglieri d'opposizione del direttivo. Nessun costo a carico dell'ente, precisa a nome della maggioranza, il Presidente Cotugno. E poi, in riferimento a quell'idea progettuale prevista dal piano di bonifica, la massima espressione della programmazione dell'ente segnala quella che a suo avviso è un'ispiegabile contraddizione. Il piano di bonifica noi l'abbiamo trovato in essere, approvato dalla precedente amministrazione. Precedente amministrazione che, guarda caso, ha fatto un'interrogazione a livello regionale, un'interrogazione a livello parlamentare, ma parte da loro, faccio nome e cognome, dal dottor Nola. C'è un assessore oggi nei banchi di opposizione, un grande amico, Mario Celi, l'ha votato. L'ho votato anch'io allora. Quindi, avendolo votato allora, era un'idea che già condividevo sei, sette, otto anni fa, la porto avanti, se ci saranno i dovuti finanziamenti. Però, sentire sparlare da persone che questo piano l'hanno approvato, hanno speso bei soldi, perché allora furono spesi circa 60.000 euro, e poi sentire queste cose in consiglio oppure sul giornale, questo mi fa male. Io faccio agricoltura, vivo di agricoltura, sono per gli agricoltori e sto proponendo un'idea per la collettività, soprattutto perché crea benessere, è per l'agricoltura. Cioè, daremo acqua a persone che oggi la devono prendere con gruppi motopomba che sono emissioni in atmosfera, dare acqua a queste aziende che sono oggi le migliori al nostro, diciamo qua a breve tratto, confinanti con la regione molise. Quindi, creiamo due opportunità. Prima non inquiniamo, seconda cosa, questi rientreranno nel nostro comprensorio. E l'ultima parola sull'impatto ambientale del contestato ponte, laddove il protocollo d'intesa dovesse diventare progetto, sarà espressa in realtà in sede di conferenza dei servizi. Il diavolo di Tufara ha sfilato ieri in piazza San Marco a Venezia, la città che rappresenta il carnevale nel mondo. Qualcosa di indescrivibile, straordinario, un carico di emozioni senza precedenti ed uguali, si legge in un post pubblicato su Facebook dall'associazione culturale Antica Maschera e il diavolo. La nostra motivazione, dicono, è stata e sarà sempre quella di far conoscere a più gente possibile la nostra tradizione. Non c'è palcoscenico migliore di questo. Ci riempie il cuore di gioia vedere lo stupore e l'orgoglio dei nostri compaesani e non che ci ammirano e seguono ovunque. Un amico fidato per i giovani che vuole ascoltarli e aiutarli a superare le piccole o grandi difficoltà che vivono. È lo sportello Young dedicato agli studenti delle scuole superiori di Larino attivo a Casa Calenda e Termoli dal 15 febbraio per 12 mesi grazie a un progetto dell'ambito territoriale e sociale di Larino e dell'ATS di Termoli sul fondo delle politiche giovanili. Il Festival del Teatro Popolare Yambel fa per la prima volta tappa in provincia di Serni. Appuntamento da non perdere ad Agnone domenica 26 febbraio alle 18 presso il Teatro Italo-Argentino con lo spettacolo di Il Courage of Neapolitan Firemen su palco la compagnia di teatro del Bianconiglio che nasce ad Eboli in provincia di Salerno ma che viaggia da ormai un decennio con il suo repertorio in tutta Italia mostrandosi capace di superare naturalmente le barriere linguistiche e culturali e conquistando diversi prestigiosi riconoscimenti. Questa era l'ultima notizia di oggi. Adesso vediamo il meteo. Il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino Previsioni per oggi 21 febbraio. Il tempo sulla nostra regione si presenterà sereno alternato ad addensamenti nuvolosi. Nel complesso tuttavia ci si aspetta una giornata stabile asciutta. Venti dai quadranti meridionali, mare poco mosso. Temperature Campobasso minima 5 massima 17, Isernia minima 5 massima 13, Termoli minima 9 massima 14, Venafro minima 3 massima 14. Previsioni per domani 22 febbraio. Cielo variabile con nubi alternate a schiarite, addensamenti più consistenti lungo il litorale ma senza fenomeni. Venti dai quadranti meridionali, mare poco mosso. Temperature Campobasso minima 6 massima 13, Isernia minima 7 massima 13, Termoli minima 12 massima 14, Venafro minima 6 massima 16. E con il meteo è tutto. Io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo l'appuntamento del Tg di questa sera alle 19.30.